Il futuro della TUA, l'azienda unica del trasporto abruzzese, ora passa nelle mani dei lavoratori. Da domani 3 novembre CGL, CISL, Will e Faisa CISL, i sindacati che hanno siglato l'accordo con la regione Abruzzo sull'armonizzazione dei contratti di secondo livello di GTM, Arpe e Sangritana, gireranno l'Abruzzo per spiegare i contenuti del nuovo contratto in vista del referendum confermativo sull'ipotesi contrattuale partorita pochi giorni fa dopo sette mesi di contrattazione serrata. Ai lavoratori cosa direte? Ai lavoratori diciamo che noi abbiamo cercato di limitare al minimo anche i sacrifici, sia dal punto di vista dell'aumento di produttività ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Io voglio ricordare che il 50% dei lavoratori di TUA, stiamo parlando di circa 800 dipendenti, non avrà alcun tipo di penalizzazione dal punto di vista economico. Naturalmente stiamo parlando di quegli 800 dipendenti che hanno i redditi più bassi. Peraltro abbiamo cercato di garantire le stesse condizioni anche al personale giovane, al personale di nuova assunzione, che normalmente quando ci sono queste operazioni di ristrutturazione, accorpamenti di azienda, sono sempre quelli che pagano per prima. A questi lavoratori verrà riconosciuto peraltro anche una parte del cosiddetto zainetto, che sarebbe fondamentalmente la retribuzione di provenienza delle tre aziende. Per i sindacati l'obiettivo è stato raggiunto, salvaguardare il più possibile i posti di lavoro esistenti, creando un'azienda unica in grado di andare sul mercato ma che resti sotto la mano pubblica. Stiamo salvaguardando 1.600 posti di lavoro, la certezza del posto di lavoro, la certezza dello stipendio e la certezza dell'azienda pubblica. Ai lavoratori dovrete spiegare soprattutto questo aspetto, poi ci saranno anche nuove assunzioni annunciate dall'azienda ma anche qualche esubero. Sicuramente sì, innanzitutto per quanto riguarda l'esercizio. Gli autisti già ne hanno assunti 30, ne dovranno assunti altri 20, forse 30, entro la fine dell'anno perché c'è un'esigenza reale. Nella manutenzione, reinternalizzando i lavori, dobbiamo fare il concorso anche per l'officina gomma perché dovremmo creare un'officina adatta all'altezza di questa azienda qui a Pescara. Sugli amministrativi, come diceva prima, ci potrebbe essere qualche sorpresa. Ma anche lì stiamo ragionando che qualche amministrativo può andare a fare le verifiche perché c'è un'evasione delle rifarie enorme e quindi va a fare le verifiche. I GA4 già hanno dato l'assenso. Vedremo di organizzarci con questo osservatorio regionale. Abbiamo bloccato lo straordinario negli amministrativi, quindi c'è la banca a ore sempre autorizzata dal preposto. Ci stiamo organizzando.